In Italia i numeri dei reati contro l'ambiente crescono a dismisura, così come il fatturato dell'ecomafia che nel 2017 è cresciuto del 9,4%, raggiungendo quota 14,1 miliardi, ma aumentano anche gli arresti, registrando nel 2018 un più 139,5% di ordinanze di custodia a cautelare rispetto all'anno precedente. Sono fondamentali i controlli e il monitoraggio del territorio per garantire una prevenzione efficace, come è stato ribadito a Pescara nel corso della prima delle due giornate promosse dall'Arta per favorire un confronto proprio su questi temi e sulla legge 68 del 2015. Oltre 200 persone, tra personale dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente e delle forze di polizia specializzate nel contrasto degli ecoreati, hanno partecipato all'incontro ospitato dall'aula Emilio Alessandrini del Palazzo di Giustizia. Tra i relatori, insieme al direttore generale dell'Arta Francesco Chiavaroli, Pasquale Fimiani, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione e coordinatore della Rete Nazionale delle Procure Generali nelle materie ambientali. La seconda giornata formativa è prevista per il 21 maggio. Abbiamo costituito una rete locale, c'è una rete nazionale e c'è una rete locale insieme alle procure, insieme alle forze dell'ordine, insieme alla regione Abruzzo per contrastare, per seguire per quello che è di competenza di Arta i reati ambientali e a divenire una tutela maggiore del territorio. Il processo di bussi insegna che è necessario un controllo del territorio puntuale e capillare perché altrimenti possono emergere bombe ecologiche a distanza di anni e poi evidentemente l'intervento della giurisdizione è tardivo rispetto al fatto. Quindi occorre un nuovo metodo di lavoro, perciò la giornata di oggi è importante perché occorre far parlare tutti gli attori di questo complesso sistema. La Procura generale della Cassazione ha creato questa rete per far parlare tutte le procure e utilizzare metodi uniformi di lavoro, parlare anche con le polizie giudiziarie ma soprattutto è fondamentale il controllo del territorio.